L'inizio ho avuto qualche problema, però dopo il giudice mi ha aiutato. Sto migliorando, ho ancora tanto da migliorare, ma sto lavorando forte, voglio giocare due partite. Nel mio tempo in Olanda ho giocato solo un partito in Europa, ma la squadra ha giocato quattro partite in Europa. Hanno anche giocato dopo il Girona. Sono partite importanti anche adesso per noi perché vogliamo arrivare il più alto possibile in Europa. Quindi domani dobbiamo dare il massimo. Dovessi scegliere un obiettivo per te, sia personale che di squadra, al termine della stagione? Diciamo con la maglia della Lazio, quale sarebbe? Sicuramente l'Europa League è un obiettivo per noi perché il mister ha già detto che adesso ci sono solo squadre forti. Quindi come giocatore, noi vogliamo sempre giocare contro squadre forti. Per me quest'anno, le ultime 16 partite, voglio giocare e voglio migliorare perché c'è tempo da migliorare. Ho ancora, come ho già detto, tanto da migliorare, ma voglio arrivare il più alto possibile anche nel campionato. Questo è veramente un punto importante. Adesso siamo settimo, voglio arrivare almeno alla quinta posizione. Quindi dobbiamo prendere più punti.